Non fidarti neanche del mediatore più onesto. Ricorda che ciò che ti viene detto ha sempre un triplice aspetto. Riceve una certa forma da chi racconta, è rimodellato da chi ascolta ed è occultato a entrambi dal morto di cui si narra la storia. La gran parte della gente vive durante il giorno con questa o quella parte della mente in un felice stato di sonnolenza. Un affamato che sta mangiando una cotoletta si interessa al suo cibo e non, diciamo, al ricordo di certi angeli in tuba sognati addietro, ma nel mio caso tutte le persiane serrande e porte della mia mente erano spalancate a qualsiasi ora del giorno. Il passato è un nobile combustibile.